ciao a tutti ragazzi benvenuti e bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato a a voi in questo caso proprio dedicato a voi non è né per captain subasa dream team né per sensei awakening o meglio rettifico è sia per captain subasa dream team che per sensei awakening come avrete ben capito come già avevo anticipato nell'ultima live che avevo fatto avevo detto il giorno che raggiungo 3000 iscritti visto che siamo nell'anno di avengers and game non potevo non intitolare il video per il per il raggiungimento di questo traguardo vi voglio bene 3000 spudoratamente copiata da la battuta più celebre secondo me di quel di quel film o forse la seconda dopo avengers uniti o ancora devo ancora decidere quale delle due mi è piaciuta di più ad ogni modo intanto i dovuti ringraziamenti vi ringrazio per ringrazio tutti quelli che mi seguono da quando ho iniziato a portare captain subasa sul canale ringrazio quelli che hanno iniziato a seguirmi più di recente con con sensei awakening io lo ripeto lo ripeto sempre e non perdo mai occasione per ripeterlo una volta di più piuttosto che una volta di meno io personalmente non mi ritengo uno youtuber nel senso che comunque io conosco degli youtuber veri veri nel vero senso della parola so il lavoro che c'è dietro nel fare lo youtuber e non me la sento sinceramente di paragonarmi a loro io mi sono sempre solo considerato un appassionato che utilizza youtube come eventuale funzione aggiuntiva dei giochi ai quali ai quali appunto gioca questo vale sia per captain subasa che per sensei però per quest'oggi per celebrare questo questo traguardo ho deciso di fare una cosa un pochettino più da youtuber non non è nelle mie corde quindi verrà una cosa un po goffa probabilmente rispetto a come siete abituati a vederla a conoscerla su altri canali sto parlando del classico giveaway giveaway sarebbe facciamo una cosa e poi io vi do un regalo e nello specifico il regalo in questione sono aspetta che faccio vedere meglio ecco sono le le spille quale quale chiamano button badge però per me sono spille sono le spille ufficiali del film one piece stampede film che è uscito a novembre se non ricordo male io ne ho due ne ho due perché ne è andata una me una mia moglie però io le spille non non le metto so che è un po ridicola come cosa c'è uno porta captain subasa e sensei e regala le spille di one piece che non c'è zecca niente né da una parte né dall'altra però credo che bene o male tutti quelli che mi seguono siano appassionati in generale del tutto ciò che viene dal giappone anime manga eccetera eccetera credo che one piece comunque assieme a dragon ball sia al giorno d'oggi ancora il brand più conosciuto in generale dalle varie generazioni da generazioni di età di differenti e poi soprattutto ragazzi questo passa al convento per cui non è che potevo mettermi a regalare lascia un figure di goku da 30 gente no poi questo passa al convento e quindi per il momento accontentiamoci come funziona nel giveaway di solito la gente dice seguitemi qui seguitemi la mettete il click mettete mi piace no io non obbligo a fare nulla di tutto questo sarà un giveaway molto molto semplice parte dedicata a captain subasa come sapete a breve arriverà al super dream fest ad oggi ancora non ho notizia del super dream fest però comunque sappiamo che sarà prima della fine del mese sarà un super dream fest perché avranno due ban ci saranno due banner separati almeno due banner separati nel senso che fino adesso è stato così magari la club ci vorrà sorprendere con qualche extra fatto sta che durerà una settimana e quindi come partecipare al giveaway voi semplicemente fate uno screen della vostra estrazione più fortunata la vostra estrazione più fortunata attenzione per fortunata non intendo avevo solo 50 dream ball e guarda cosa ho trovato con 50 dream ball oppure non ho trovato niente con mille dream ball e guarda con gli ultimi 50 cosa ho trovato oppure l'ho trovata ho trovato questo alla prima estrazione eccetera eccetera no in generale l'estrazione più fortunata nel senso escono fuori 10 giocatori buttate fuori quelli quanti quanti personaggi ssr avete trovato quella con più personaggi ssr che avete trovato naturalmente meglio segno perché vuol dire che nel vostro caso non sono non sono doppioni io selezionerò le migliori quattro e poi pubblicherò diciamo così la mia selezione sia su instagram che su youtube farò partire delle votazioni quindi potrete poi votare voi quale di queste quattro secondo voi è stata l'estrazione più fortunata e il vincitore mi impegnerò io a mandargli le spillette a casa naturalmente i vostri dati li date in privato a me e basta e rimangono a me e basta e vi garantisco che dopo che me li avete dati dopo 3 secondi sono dimenticati per cui non vi preoccupate che io alla privacy ci tengo ci tengo molto 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 le votazioni io sommerò i voti raccolti sia su youtube che su instagram su youtube naturalmente farò un video apposito per le votazioni varrà solo quel video così come su instagram farò un post solo per le votazioni ne varranno solo le votazioni in quel post stessa cosa più o meno per quello che riguarda sensei awakening con una variante però perché in sensei awakening noi adesso da natale praticamente sappiamo già che avremo il banner di poseidone che però durerà due settimane a differenza del super dream fest di captain subasa che non so se arriverà credo che arriverà dopo natale però non lo so comunque a differenza del super dream fest di captain subasa che solitamente dura una settimana il banner di napoleone di napoleone vabbè ho detto di napoleone oddio c'è in mente napoleon scusate il banner di nettuno il banner di nettuno su sensei awakening durerà due settimane e qua vale la stessa cosa fate il vostro pool da 10 quello che ritenete essere il vostro pool più fortunato gli fate un bello screen me lo inviate per inviarmelo va bene qualsiasi mezzo possibile avete tutti i miei link sotto in descrizione sia per quello che riguarda instagram che per quello che riguarda facebook se siete iscritti su discord al canale di discord che ho di captain subasa potete mandarmeli anche su discord potete iscrivermi mandarveli disiscrivervi da discord insomma di modi per inviarmeli ce ne sono tanti l'unica cosa ragazzi siate poi rintracciabili mica che io poi vi scrivo guarda che hai vinto e tanti saluti non mi si risponde non mi si risponde più perché comunque alla fine avrò bisogno degli indirizzi non datemeli subito li chiederò direttamente io ai due vincitori sto ancora ridetto perché sto pensando che ho confuso nettuno con napoleon sto messo male so che i ragazzi di captain subasa quest'oggi si aspetterebbero un video in merito ai nuovi giocatori che sono usciti oggi che sono tra l'altro molto interessanti però a questo punto credo che li porterò di mercoledì perché per oggi volevo focalizzarmi solamente su questa cosa e quindi niente ragazzi ancora veramente grazie di cuore è stato un anno intenso senza ombra di dubbio per tanti sotto tutti gli aspetti sotto tutti gli aspetti è stato un anno molto intenso intanto come mi giro di lato vedo di lato vedo che ho tipo la pinna dello squalo di kishida dovrò aggiustarlo un pochettino e quindi veramente grazie ancora grazie di cuore a tutti grazie perché io in realtà me lo devo dire sempre gli altri guarda che sei arrivato a un tot di iscritti perché non li ho mai guardati più di tanto e per me già aver superato i mille la prima volta era una cosa assurda essere arrivato a tre è vero che tre mila nel mondo di youtube sono una lacrima in un oceano c'è gente che ha milioni e milioni e milioni di iscritti però per ripeto per quel poco che faccio io per quello che porto io secondo me è veramente un traguardone che non avrei mai pensato di raggiungere quindi ancora veramente grazie di cuore per tutto ragazzi la chiudo qui spero che sia tutto chiaro nel caso vogliate qualche ulteriore delucidazione scrivetemela scrivetemela pure qui in descrizione io presto o tardi meno male bene o male rispondo occhio però se magari non chiedete una cosa che hanno già chiesto altre 30 persone magari scorrete un pochettino prima i messaggi se no devo ripetere 30 volte la stessa risposta e non è bello né per me né per voi ok ragazzi grazie ancora grazie ancora veramente di cuore vi dirò nel relativo video sia per quello che riguarda Sensei che per quello che riguarda Capitanzo Base Dream Team quando partirà effettivamente questo questo possiamo chiamarlo concorso anche se mi sembra una cosa molto molto commerciale vabbè chiamiamolo concorso così per capirci tutti ci vediamo a Natale perché mercoledì a questo punto è Natale farò il video sia su Sensei che su Capitanzo Base Dream Team per oggi era tutto pace belli alla prossima grazie a tutti